ciao a tutti andiamo va bene questo tutti non sappiamo cosa fare siamo in live non facciamo il rai che tristezza non avevamo la squadra desolazione perché stavo scendendo qua per me il sur non è che abbassato i prezzi sur si ancora scontro del sabato sera mi dai tre in grammi per sis allora allora parte questo io voglio questo impatto solari devo fare ancora 40 non è vero e quando segnali ce l'ho già la smette però è un ingegno posso comprare da qualche parte la strana moneta non è vero in piena strana moneta a fare il sottobanco ammarcato nero ma scusa scusa un po e non l'avevo messi a un po di strana moneta tipo dove ma ce ne aveva un botto prima hanno solo 32 si va risalgono ancora quelle del cavallo perché l'ho spese le altre su che cosa ma l'altro cosa inutile sicuramente meno domanda adesso se no di poi sono inutili che tristezza è un pochino ma ce ne sono un sacco di lanternine con anche un sacco di angolini ma che bello troppo tardi siamo partiti tardi è tardi ormai è tardi sta guardando la grafica e difetti in effetti che quale che non c'è adesso ok io no ma è carino sembra fatto apposta io ho smesso di piovere 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 pioverino pioverino piovere cos'è questo ma no non dobbiamo fare questo poi dico forse all'occhio ma c'era lì cosa hai appiccchiazza beh andiamo andiamo da che partono andare su giù cosa c'è lì sopra e senti tirami sotto cos'è questa roba qua la fiuma però forse un altro nucleo fiume condivise se sei che occhio guarda che io vedo tutto attenzione attenzione più o meno dire il vero la reputazione spettro ok devo avere anche la reputazione con il mio spettro perché è quello che tiene in vita ho capito ma penso che era mai abbia una considerazione abbastanza notevole di me lo spettro no dovrebbe darmi tutto così a prescindere non ce lo concordo con questa cosa cosa ho fatto qualcosa posso giocare dico la parola col no ciao chat hai fatto la missione che è apparsa vicino al raid no che mi siano apparsa vicino al raid ecco il suo eccessione 12 ancora 12 ma non ancora poi sicuramente la faremo ma non ancora è apparsa vicino al raid tutto qua eccessione pari no non ancora cino questo morendo apposta molto bene perché tu le fatte invece marca sì lo so è il freddo di freddo di freddo di freddo 4 sì e se poi la facciamo questo che il raid è finito e la squadra miseramente ha deciso che aveva bisogno un po' di pausa come se ti abbandonate 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 strana per poter prendere finalmente il catalyst dell'impatto solare non so se lo sai ma visto che xul ce l'ha io vorrei tanto avere il catalyst dell'impatto solare ma è questa qua la missione che devo fare stiamo nell'area di ricerca io cazzo ho visto bene sì ho visto bene a parte fatto che secondo me sei tu che hai tirato giù no no tu ti sei infocchiato con l'accolito mi sono mai sfocchiato infocchiato troppo io mi infocchio gli accoli chatti hai installato tu desti chatti ma vanno a giocare quei giochi la che non sono veri giochi chatti a parte il faggiano io quello del faggiano voglio che vuoi il faggiano stai guardando la formula 1 perché c'è la formula 1? si è a weekend via ciao Mortimer ciao Mortimer ma non vi addormentate dopo il secondo giro? è una domanda che mi faccio sempre perché non la guardavo io non so tu parli ma no ma che cazzo red ciao red non lo so mi è sempre annoiato però ci sta io non lo concepisco mi preferisco farle le cose che guardarle per evitare la macchina a formula 1 magari mi sarei divertito magari sarei morto subito è altrettanto probabile e strolli in testa in questo momento non lo so 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 oh dai quella è semplicina 20 minuti dovrebbe essere no? ora ora ci fa la cronaca è sicuramente il nostro sim è felice ma non lo so 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 quando cosa? quando usciarti con la cacca sono confusa anch'io si è una cagata da fare con la red ah no perché devo ricaricarlo? ok in realtà non penso che ci interessassi no però lì c'è, dobbiamo andare lì quindi non dall'azione se sei è un'amplificata ti senti? non lo so non è di qua di qua? è sicura? no, infatti deve essere qua andrà teoricamente non lo so cosa che dice? mi manda di qua? no qua c'è il cazzetto c'è il cazzetto che c'è ancora? ah c'è un bottino ho preso il bottino guarda il bottino dobbiamo devo fare una cosa in modo certo e anche... sì, dobbiamo farla sì 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 dove cazzo? obiettivo vicino madonna lo spettro veramente distrutto quando sei lo stregone lo sai? è che sarà sotto? metto guardando ma ma non so no almeno che è di qua? cazzo no chissà tu è puro continua incastrarmi? no non è di qua obiettivo vicino da sopra forse come ci arriviamo? da sopra da sopra dov'è? no mi indica non è vero non è vero? ehm dobbiamo andare sull'albero? ci sono andata io ma sono andata sull'albero? l'hai fatto? sì, l'ho saltato di qua? dove si va? torna indietro mi ha detto non è un buon segno quindi non bisogna salire? non bisogna se tutto va bene mi metto sugli alberi nooo sono smilati torna indietro va bene Ricky! buonasera ciao e benvenuto ti chiedi dov'è? che bello questo posto molto verde molto queen molto queen l'ho salito su di qui le scalate impossibili cosa cosa ci dice l'impresa cazzo cazzo l'ho trovato lo spettro smarrito e probabilmente ferito allora dobbiamo trovare lo spettro che l'ho messo in un modo assurdo malissimo eeeh come si attaccato si attaccato ho trovato? no ne sono due no era qua da qualche parte come sarà ridotto questo spettro? male si presume no ah qua 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 ma tu pensa l'indagazione ha crescita per essere a pergola per la 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 pergola è tardi quindi abbiamo un certo che sta guardando la formula 1 reddick sussurri un mark che non c'è più risposto e un richie che è arrivato adesso molto bene molto bene adesso riuniamo tutti e andiamo a fare la parte qua sotto no ma che l'ho già fatto a devi farlo qui qui wow incredibile qui tutto cresce significa che il viaggiatore sta un po' meglio stiamo a parlare con lei? ah a me questa non è che mi gusta molto eh mi dà una rossa un giorno eh un giorno un giorno cos'è? hai già calcate bravo sì devi prendere adesso gli echi cosa devi prendere non gli echi come si chiamano? le particelle d'ombra dovevano prendere? ma esatto niente va bene così però questo qui potevo ecco dai e sblocchiamo e sblocchiamo hai visto un po' sul cazzo queste pagnette una buona notizia e una cattiva va bene abbiamo qui una pecorella smarrita salva ma tutt'altro che sana l'esposizione diretta alla luce del viaggiatore è stata un buon inizio ma non basta non ancora non capisco se dobbiamo solo avvicinarci di più o se il viaggiatore è sostenibile e non riuscire ad aiutare forse si possono guarire di certa provare è meglio che non fare nulla scoprire cosa stava cercando questo piccolino potrebbe rivelarci qualcosa ma parla strano questo qua comunque hai fatto bene echi bravissimo ma chi ha voglia di farlo? ma le facciamo noi? si allora red questa settimana è stata un po' caotica ferrovia tutto quello che poi abbiamo fallito ma il pallido cuore è più pericoloso che mai però è tutto quello ma cos'è per euro zero? si è revisione zero e anche i sussurri una roba li serve anche a me lo so è per quello che andiamo a farla si come si è andato? ma sto a giro pagando in realtà dopo che mi ha fatto questo cosa vuole fare? è stata impresa se era per un'altra persona risparmio di 20 euro eh lo so è d'altronde è così è così cos'è di fare? eh così non c'è più niente da fare io qua convalescenza andiamo convalescenza dove dobbiamo andare? non lo so però tolgo questa cosa che mi sveglucica e mi confondo dobbiamo andare palido cuore palido cuore ma non è vero siamo con noi e qui dici la menzione salfallante prendi forzieri e palido cuore poi vediamo le modifiche ok dobbiamo aprire i forzieri andiamo aprire i forzieri dai andiamo alla prodo a giro pagare a cazzo ah vuoi che andiamo via di qui? ok vuoi fare ferritura? no prodo? in pass eccolo qua andiamo prodo domani vedo se trovo una ps5 che è la 4 perchè tu giochi della 4? eh ma ci sono le offertoni adesso ora sto a fare la caduta di un re posizione preparati ma vero? e tu hai comprato tutti i dlc? molto bene andiamo a prendere per te che mette la modifica sullo spettro ma mi sa che c'era anch'io la modifica sullo spettro non vorrei dirti ma vediamo ovviamente l'avrò utilizzata rileva tutto si rilevo tutto quindi? rilevo tutto no non abbiamo finito il ride assolutamente no ciao dark ciao ciao come stai? aia aia mi sparano niente non ho un'arma come un mirino quindi non posso vedere lontananza ci racconti dark? tu allora red non so quanti dlc hai tutto bene? dispiace non poter giocare eh non so infatti che fine hai fatto tu sei? cosa fai dark? comunque dovremmo farlo lo stesso abbiamo perso la gara ma dobbiamo fare lo stesso il ride ragazzi quindi abbiamo bisogno di gente abbiamo bisogno di gente a 1960 shrink che vuole spaccare c'è c'è non necessariamente spaccare il testimone per spaccare qualsiasi cosa per poter arrabbiare pressa va bene Destiny è l'unico gioco che faccio da quando ho aps fino all'ora cavolo vero rinchi no io per dire Destiny 1 assolutamente no avevo provato all'epoca il fun a tempi era la demo hai sbaccato la modifica dell'edizione del settore a roma a lavoro ma il 3 ritorno grande grande dark quindi quando capiremo cosa sta facendo ok hai sblocato la modifica dell'edizione c'è la modifica dell'edizione del viaggiatore dove lo trovo? in 300 relativo nodo a una mappa da quale tu cuore bravissima aspetta aspetta devo uccidere quello che mi sta sparando ah non sono infinite però tutto inizia ma quello sì volentieri non magari stasera però lo facciamo questa settimana è stata un po' particolare appunto per la gara di ieri per le robe cioè ci sarebbe anche oggi ma lasciamo perdere l'abbiamo persa dov'è che devo andare adesso perdonami ah più o meno abilizioni eccola qua mi stanno sparando mi hanno ucciso hai visto? ma difendermi no eh ascolta non è che è proprio piccolo che lo fanno io ti ho difeso finchè non hai fatto di tu cazzatine io te lo dico eh però cosa vuol dire scadere tramite 6 ore? ah perché se non lo metto scadere tramite 6 ore c'era veramente compatibile no penso che che scada se lo metti ok l'ho messo va bene quindi scade va bene scade tramite 6 ore va bene va bene va bene se abbiamo detto che ci siamo lo facciamo se avete poi bisogno facciamo tutto questa settimana è stata un po' cosa dobbiamo fare? lo sto sparando quello che mi ha ucciso indagato al nuova crescita presso la pergola dobbiamo andare alla pergola oh ci ha dato un forzerino là in fondo eh dove? là dove ho ucciso il cicciolo andiamo andiamo picca grazie per il follow benvenuto ciao Miele ma davvero pensavo di averti già salutati ti sono già salutati mi penso ciao Miele ciao Miele città perduta la pergola la pergola la pergola la pergola ditevi quando è va bene io da mercoledì e venerdì non ci sono perfetto se chi devo uccidere cosa è successo Miele perché deve uccidere qualcuno? se vuoi ti do una lista chiede vicine perché soprattutto nuova crescita ok sono pronta mire cosa sta succedendo ok mi ha dato un'arma che potrebbe essere quasi interessa grazie la mia faccia è un ottimo inizio applicarsi aiutare la mia faccia parla è arrabbiata no per una sera adesso sarò stanca perché effettivamente sto facendo ore improponibili non mi sembra probabilmente invece tu sei qualcosa che io non so no non sei arrabbiata sei triste sono triste mi serosa può essere può essere ammazzatemi ok chat vuole morire perché chat me li aiuto cosa devo fare ma è un proposito è una cosa serissima sei ma chat grazie chat volevo superare ola fa giustamente grazie ma miele hai fatto il modem apri forziere ancora nell'approdo questo però è del rovesciamento quindi dobbiamo fare il rovesciamento dove lo trovo e non c'è rovesciamento al momento all'approdo vabbè allora facciamo che facciamo altro ciao Andrea ciao prima che le sub torni a 5 euro cosa fanno? al mese prossimo se non sbaglio no? giochiamo a Fortnite abbiamo giocato oggi a Fortnite vieni a giocare a Destiny andiamo a fare affrontamento al testimone andiamo dai andiamo guarda è da oggi pomeriggio che recito calendario al contrario domani dovrei risolvere raccontami perché ma ti è arrivato il modem? questo è perché Mark l'aveva chiesto anche io voglio recitare calendario al contrario con narrazione beh con narrazione sì penso che non hai alternative quindi ho provato a toglierlo non funzionava no ho toglierlo non funziona bu dati attenzione parte il video difensori di Sol oddio Zala adesso ascoltatemi attimi fa una squadra si è infiltrata nel monolite del testimone spezzandone la presa sulla luce del viaggiatore che figata già questa scena bellissima questo coraggio ci ha offerto un'ultima occasione per farla finita il testimone è ancora in vita guardiani e spettri lo affronteranno mentre noi elimineremo ciò che resta delle sue forze eh vabbè l'ultima occasione di libertà cazzo ci fa Salaton lì? tende in quel campo una domanda questo nemico ha preso troppo a tutti noi aia guarda i caduti guarda lì ma che figata è ora noi la concluderemo la prima volta che vedo che fa qualcosa non va la cosa beh 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 è arrivato ma non andava ho già fatto il reso domani arriva un altro dai che domani si gioca a Destiny a parte sta figata qua che ho visto è stata figo no il video? no? sì ma sono confuso cioè a parte il fatto che va bene ha dato fastidio a direzio ti bezzavala da fastidio a tutti ma perché ha usato la stasi? perché no? c'erano tutti quelli di fuoco e ghiacciava no? ma non ha perso il brocchiero? è vero che quello gliel'hanno ridato? a meno che l'oscurità le cose d'oscurità le puoi usare senza spettro può essere può essere può essere sono confuso va bene ce lo spiegheranno sei sicura che non è un errore ma ce lo spiegheranno no e non vorrei che ci siamo persi qualche pezzo col discorso del raid probabile abbiamo una squadra che non ha voglia di giocare comunque me lo me lo do diritto in petto che cosa? cosa hai droppato? scusa chatty mi ci sono allungati i capelli no? li ho tirati oggi no no e non sono legati perché appunto i tuoi alleati combatteranno al tuo fianco bravissimo c'è il drop perché hai fatto la sub quindi ti hanno dato il drop l'emblema tu devi giocato a corte devi giocare per corte a destine eh so cazzo ma che giusta ma tutto sto casino? non so io sto prendendo a pugno te lo dai sul petto perfetto ma che rischio è qualche io amo la mia squadra io voglio fare il ride quando torno ci sono benissimo mi fa piacere facciamo il ride insieme non vedono i ragazzi voglio fare un sacco di ride questo quindi vi voglio pronti voglio carichi ma perché non ho il mio ma scusa io voglio il mio ma scusa scusa perché io sono l'ami ah perché ieri non l'ho cambiato dove è il mio metti questo è un buono sto bastardo ma no non posso perviarmi qua ah beh allora sto 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 un tormentatore a caso della madonna è ufficiale è l'ora di partire un cinecano stiera caldino caldino una migrazione andiamo tutta gente che c'è porca troia che vicino nel senso di di guardiani che bello ma cazzo che è ah no conseguono uccidere e che non si dica che non ero presente quando c'era bisogno beh che si dica guardate ragazzi lo so che sono fuori dal comune ma secondo me il fatto che mi arrivi ancora un pochino di fresco prima di morire di caldo oh assolutamente anche perché non è che mi posso sfogliare io a un certo punto eh ma anche qua non è che segnava poco a me è venuto da piangere beh ciao ciao ma fermali così perché a noi ci ha rotto le spalle tutto il tempo e che cazzo e che cazzo è arrivato amicalizzava e ben santo di tanti presto cercando di capire chi sta sparando chi è mio amico è un macello pazzesco non si capisce perché a me piace il macello così è visto gioco sempre torno come si è venuto però così mi viene un po' troppo e se il cabal sta davanti non mi mette l'ascella sotto le buche i moti tutti gli effetti è bello 12 12 guardiani 12 cristiani non si capisce più niente ci sono anche un po' di stregoia usare il transito del limite comunque qua in mezzo eh no infatti l'ho tolto perché prima ho ucciso uno e passare davanti i soliti rave da saint sì che si capisce i miei rave io guardiani ci avviciniamo al testimone ci siamo guarda quanta gente siamo il primo è bella è bella è bella peccato che poi oddio oh cazzo ma questo questo non è eh sì deficiente la barriga di carcio non c'era siamo quasi che uccidiamo nella fine tutto cazzuto come lo trovo l'imparato così io tutto per angolare però è ancora con che fai i suoi giochini con le manine sto stronzo ma bellissimo ragazzi quello sì ma è bella che ha fatto i fattori ci sono che 12 guardiani in mappa e non è niente pensavo che fosse una roba tipo ride in 12 su che avrebbe stato un po' un problema con la comunicazione un po' un po' mi ha fatto fatica da comunicare il 6 ecco mi ha passato davanti un compagno e io ero dove non c'era nessuno ma è stato bello in 12 ci manco una con per restare dai letty non so dove sei se non sei arrivato subito di corta vado e vorrei devo fare rottini luce fa diventare nuovamente una cosa assoluta l'occhio è brutta per te uno strumento della più valiente rotina c'è qualcosa che non mi torna in che senso non lo so non mi fa sì tutti nella stessa nella stessa squadra ragazzi sì tutti nella stessa squadra è una nuova attività con 12 giocatori dobbiamo fare contro il testimone che adesso quanto pare è tutto il testimone ciao trick ci hanno abbandonato tutti trick siamo solo noi due però faremo ancora il ride perché voglio farlo a breve hanno già finito il ride come ben sapete hanno vinto un team ma cos'è come è che il team era dove da bello non so però ti tieni io non penso fosse italiana però i nomi non sembravano però io mi chiamo se for sim quindi italiano ci posso quindi può essere io voglio fare questa cosa posso no non posso farla oh no oh cazzo è uscito fuori un non lo so era qualcosa di grosso anche perché ragazzi come ben sapete io devo prendere il catalis dell'impatto solare e mi ci vogliono ancora 43 monete però che finiamo sta roba giusto 2 sì però è una bastardata sentiate che è una bastardata fermata a seconda te mi fermo perché me lo dici tu oddio salve ragazzi scupido questa non dice oddio cosa fa è spacchiatuto cazzo cazzo libera abbiamo una cosa sola ma devi spaccare un'altra spatua presto patua patua sopporteremo un altro gioco con te entità lo senti quello è assente ciao mi sembra anche il nome non si è attaccato mi sembra assente quello è la bolla titana non si è attaccato lui non si è attaccato guarda è aperto mi dà il nome non si è attaccato non si è attaccato non si è attaccato lancia è stato attaccato che gioco è diventato questo ah io sono morta ma che gioco è diventato non capisco sono tutti morti non si è attaccato nessuno cazzo tutti i guardiani morti sei interna non è che puoi far qualcosa di qui ma poi ci dà a me della luce sto morendo sono salito e morto e ciccio è buttato un po' dietro c'è così lascia finire la luce testimona a mona vergogna ti e io che leggo a cuore abbiamo perfetto forse è veramente una fatica a comprendere cosa che succede non so avete visto questi qui in fisica faccio quello che fanno loro bravissima così è la mona è la mona non so che cos'è la mona lo diceva sempre anche il mio babbo la mona ah no papà lo dice in un'altra maniera non bravo ah scema no lì la mona doveva essere bravissimo ce l'ha tirato tu però vabbè dovete smettere ragazzi che mi fa figuri di merda io ve lo dico non è giusto è profondamente smettato con il minotauro maligno non so io continuo spara tutto sto sentendo ma non c'è la mona ahahahah da considerate non pensare le cose divertenti ma io boh righi ovviamente chat ti sente la mona e arriva ci sono messi male vabbè è un più situazione eh mi faccio un cazzo la mia cazzo 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 beh ma tutti sti guardiani che fanno un sacco di super 2 di sé è bellissimo eh ok è muro cazzo tu ti cazzo che trovino una marea e mezzo delle sfere più in giro ma una marea una marea ok no fa venire ma di testa ce lo guardare beh effettivamente è bello incontinuato allora dovete trovare tutte le state bastate mi stronti c'è gli assatanati delle statue tanti io le prendo ragazzi se non potete prenderle no sent stai facendo fatica la nostra possibilità la mette gli smuggirei così come lì è comprensibile che si è un po' affaticato stai facendo male quando ho fatto che cagate qua stai io ho puntato giù la forza e mi sono sforzata la forza e certo questo qui è il venticolo ciao sent basta cosa solo ok perché basta evitare la zona mentre colpisce bene e dove è la zona che colpisce mentre colpisce tutto posso andare di nuovo ahia mi ha tirato una manata ma che modi ma che combattimento strano hai con te stuola che gola ciao tutto angolare che cazzo di prezzo stai 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 ecco no mi chiede penso che è un po' la tematibilità da 12 notizie con suo tema a me lagga da fare schifo no a me non sta laggando ma io vedo il tormentatore che fa dei movimenti no penso che sia fatta forza ma la gente sta arrivando in me ha lanciato giù bastardo matalo matalo va bene ragazzi 12 giocatori tirano tutti e ho parlato come procede procede che tutti voi ci avete abbandonato dicevamo appunto prima perché che fino io non non avere l'unico c'è per cui dopo disponibile tra le navi no trick ragazzi però se mi cambiate non mi in corso no però io faccio fatica come è stato il socio bene che lo stavi salutando 6.000 mi ha buttato di sotto così no ma sono da pesanti di corso imbecile corri le ferrari ah la buttate il punto posso devi cambiare sport stavre quale non alzino oh cazzo che come dimentico prossimo oh cazzo che rischio vado signorine della notte cosa te ne fai trovati una di una morosina e salina luce intramontabile ehi perché l'ho preso non lo so non si sa mai ma io non ho ancora caricato la 9 è normale no ma c'è qualche attingendo alla luce ma dai ci siamo divertiti vero vero ci siamo divertiti non avrei mollato io però capisco che voi fanciulli eravate stanci distruggi c'è 12 non c'è anche gusto arrivano tutti non c'è tutto loro io vorrei un'attività dove fai solo questo deve essere rilassante però e che bello se devi distruggere tutto a sfagato c'è ancora saint allora signor saint escolti però voglio vederti a tenere una bolla da così tanto tempo vabbè sente sente eh c'è già il nome a ragazzi eh cosa non immaginavo me l'ha copiato tu eh voglio dire voglio dire ma e forse invece c'era prima che cazzo si è messo davanti 12 oh cazzo c'è cosa devi fare trick sì chi è che mi è salvato in testa mi è saltato ad esempio non lo capito io sto passando davanti a tutti per rischiare il favore oddio il testimone comincia ad avere delle problematiche ma ti lascio anche questo guarda proprio mi sembra che l'ha sempre avuto delle problematiche guarda la campagna dove si è arrivata la campagna qui chiamo lo spettro chiama no no guardiano con voglia la luce del viaggiatur è verso di me sono pronto no mi fa morire mio spettro fate morire quello degli altri non mi fate piangere perché mi muore il mio il mio spettro è morto così arrivo io faccio il culo a tutti io non capisco sì ce l'abbiamo fatta è vivo mi spettro vivo ho trovato ho trovato i quattro scappati di casa Zavala strascio Zavala vabbè Zavala ormai ha perso ogni e poi vedrai dopo cioè Zavio ormai l'ho difeso fino all'ultimo poi dopo mi sono che tristezza che tristezza no mi sembra sembra una morte no no ti prego no 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 è fatta la cosa fatta io mi sento malissimo spettro ti prego restituiscimelo è solo uno spettro mi hai creato un esercito puoi restituirne almeno uno è stato sicuramente tra i più brillanti Kate ciò che viene dalla luce torna alla luce me l'ha insegnato la mia danza del sole diceva anche che siamo una cosa sola guardiani spettri e viaggiatore di agli altri che è stata una mia scelta la mia luce il mio destino lo decido io no aspetta se lo sta facendo sei la mia preferita non dimenticare si scarifica lui però peggio guardiana guardiana eccoti infatti per cazzo è il viaggiatore buh mi sento male ma non doveva essere la cosa allegra cioè mi sento male ci ho perso in un momento ho perso lo spettro per questo anche Kate quindi boh è arrivato sicuro testa di cazzo sta certamente guarendo ma abbiamo ancora tanto lavoro da fare sopravvivere alle forze del testimone la covata lucente quanti cambiamenti abbiamo lottato così a lungo e infine abbiamo vinto mi aspettavo una sensazione diversa beh forse perché non abbiamo ancora festeggiato così di felare eccoci se voglata spettro giusto in tempo diteglielo Kate non permetterebbe a qualche impegno di ostacolare il divertimento hai ragione per ora il nostro compito è apprezzare il momento e dopo affronteremo il futuro quando arriverà è apprezzaremo il futuro di un'esercizio veramente veramente non ha fatto mai ancora così bellissimo per carità però è apprezzaremo il futuro che tristezza sono tristissima io sono tristissima e no 99 euro sì ma tu hai dentro anche tutte le espansioni annuali scusa tutti i pass stagionali le cose le chiavi delle sede dei ride segrete perché lei come per far tutto 99 euro poi è durata secondo me come campagna merita comunque questa volta merita rispetto a tante altre merita poi adesso sono triste sei rimasto senza parole anch'io vele abbastanza un altro video ok non ok non 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 adegnata aspetta questa cosa fa per amorti c'è questi esseri ecco la peggio perché il personaggio è più bello è ritornato e si è andato ancora mi è andata la speranza e poi me l'hanno tolta non possono fare questi giochi magari il viaggiatore adesso decide di fare qualcosa però sente Osiride carini carini i patati abbiamo ha fatto lo scignone ha fatto se non l'ha commentata questa cosa no vabbè meno mai c'è ancora da l'altra parte su di felice è morto un'altra volta che non su di felice eccolo lì guardalo ha perso le parole eppure ce le avevo qua un attimo si ci va pure abbiamo un amichio alla fine ancora vivo abbiamo Iris Moon benissimo che ha combattuto anche lui si però non è tanto un altro inutile testa di cazzo anche lui e la madonna c'era con tutte lui va a salutare ovviamente la casita eh c'è anche la tomba da brocchiero testa di cazzo no d'accordo è l'altro imbecille che è diventato avanguardia è in safe perché è anche lei adesso? vabbè lei è stata importante sotto certi punti di vista è stata cioè è passato però mi sembra ha avuto un addio sto pezzo qua oppure eh se posso fare sì ciao a tunnino e tutto questo il viaggiatore è stato salvato ma non ha fatto niente per nessuno esatto grazie grazie il viaggiatore stavo dicendo salvatore sì mi pare proprio la fine eccoci cosa sto vedendo? penso che sia un ringraziamento non so perché è in spagnolo ma infatti spagnolo è qualcosa? eh sarà latino beh sì sembra proprio alla fine sì la morte del testimone ha colpito le sue truppe come un'onda d'urto nel momento in cui è stato distrutto tutto è cambiato dalla caduta del testimone la maggior parte dei seguaci è fuggita ma i credenti più zelanti continuano a eseguire i suoi ultimi ordini se Voarath è ancora là fuori come una mortale che si muove nell'ombra il casato della salvezza è minato da lotte intestine ed Eramis è sparita Savatun e la covata lucente stanno provando ad assumere il controllo del pallido cuore ora che il testimone è morto corrotti e infami sono allo sbandoa in parole povere dopo il testimone si è creato un vuoto di potere nell'universo non sappiamo chi o cosa cercherà di riempirlo ma tra tutto questo la cosa più preoccupante è un'aurora che fuoriesce dal viaggiatore diffondendo luce e oscurità nello spazio che sovrasta la terra abbiamo stabilito una zona di interdizione al volo attorno all'aurora di cento chilometri sorvegliata dagli incrociatori dell'alleanza per ora nessuno ha tentato di passare durante la formazione iniziale dell'aurora un frammento di materia anomala è stato espulso dal viaggiatore allontanandosi da esso a velocità relativistica abbiamo individuato uno di questi frammenti tra Nettuno e Giove nella traiettoria orbitale di Nessus poi ne abbiamo perso le tracce ho inviato dei canciatori a indagare grazie Corvo pensaci tu ricevuto anche io tornerò sul campo devo siamo pronti per te se riesco a trovare tragiche per scoprire che cosa sta succedendo agli infami tieni mi aggiornato ottimo lavoro stavo pensando appunto a cosa volesse dire grazie mille sono pronti per noi quindi ma bello che hanno imparato a mettere le cazzine però con tutti quanti i personaggi ma non si è formata una faccia dentro nel triangolo sì penso che non sia voluta ah io vedo faccio ovunque ma cos'è a fare fermi così o ci possiamo muovere ma è anche carino sì no ah no dobbiamo aspettare il sito salta quindi è un video che va quindi si bravo ma non è già finito guarda che devi fare la campagna poi ci sono tutte le cose dopo è un pezzettino ma prevede a uscire decine non lo so sì sì anche secondo me poi se volete che mi tiro scema con le immagini che ci sono dentro però io vado eh no no